Ciao, buonasera a tutti ragazzi. Ciao, buonasera. Volevo solamente approfittare della vostra trasmissione, che è comunque una trasmissione di servizio importante per la nostra categoria, per il mondo taxi, per puntualizzare alcune cose di cui avevo parlato anche con Franco la settimana scorsa e ci siamo incontrati al posteggio dei Gemelli. Sì, mi ricordo. Sono francamente spiacevoli, però lasciano un po' il tempo che trovano, però meritano una risposta. Allora, siccome ultimamente l'Uritaxi sta strumentalizzando una mia intervista di più di un anno fa fatta relativamente all'applicazione americana che conosciamo tutti, Uber, nella quale dicevo che è illegale e che per essere legale si dovrebbe rivolgere ai taxi. Qualcuno la sta strumentalizzando. Però non è che oggi chiamo per fare una mia difesa, perché a mia difesa credo che testimoni la carriera di 25 anni di lavoro e 10 anni di attività sindacale, per cui non è quello. Il problema è che mi sento in obbligo di dover intervenire perché questi signori stanno cercando di strumentalizzare questa intervista per attaccare non me, che non sono poi così importante, ma l'associazione tutela legale taxi. E attaccano l'associazione, e mi rivolgo a quei personaggi che io definisco dei jukebox, perché il loro padrone mette dentro la monetina e loro suonano la canzone del padrone, perché attaccano l'associazione tutela legale taxi. Perché l'associazione tutela legale taxi ad oggi, e le sigle che ne fanno parte, perché indirettamente ne fanno parte le associazioni sindacali, perché quando ci sono la Ditaxi, la Federtaxi, l'UGL, la CISL, la UIL, l'USB, sono associazioni sindacali che stanno facendo comunque da muro e da barriera, anche a fatica, con sforzo e con molta tenacia, affinché si tenga in piedi quella che oggi per noi è l'unico baluardo di salvezza che può essere la legge 2192. Cosa che invece qualcun altro vorrebbe cambiare, perché quando lo stesso Lorano Bittarelli candidamente in un parlamentino dice che vuole cambiare la legge 2192 con i noleggiatori, tu capisci che a noi ci manca la terra da sui tutti i piedi, perché da ignorante, ma non io, ma i nostri legali, vedendo l'impianto della legge 2192, cambiare solamente una virgola di quella legge vorrebbe dire lo sbrago, perché oggi nonostante tutto stiamo tenendo, con tutto che comunque c'è un abusivismo da far paura, però in qualche modo lo stiamo contenendo ed arginando con le nostre battaglie nei confronti dei comuni. Ma io l'accordo con questi signori che fino ad oggi ci hanno portato via il lavoro in maniera, per dir poco, truffaldino, comunque illegale, facendo incetta di licenze in altri comuni, a volte è per fronte di corruzione. Io non vedo come si possa fare. Oltretutto questi signori sono gli stessi che operano in aeroporto, sono quelli che Claudio giustamente prima diceva, stanno lì davanti al T3, adesso se vai giù, come faccio io a fare un accordo, in che termino faccio l'accordo? Oltretutto con gente che ci ha denunciato, perché noi abbiamo dichiarato e denunciato all'autorità giudiziaria il malaffare che c'è là sotto, siamo stati a nostra volta, io personalmente, e altri dei colleghi, denunciati, e per fortuna c'è stato il magistrato che ha detto che quello che noi dichiaravamo, sia il procacciamento, il malaffare che è là sotto, è palese nell'ambito dell'aeroporto di Pionicino. Per cui io non posso accettare l'attacco che si fa in maniera strumentale nei miei confronti, ma non per me, perché io non ho bisogno, non ho bisogno di difendermi da nessuna accusa, perché le stesse cose che ho detto io, le dicono anche gli stessi signori che mi hanno attaccato, che Uber è illegale, perché per essere illegale si deve rivolgere chi è autorizzato a fare questa attività. Perdonate Carlo, ti volevo fare una domanda a Franco, Carlo. Non la deve toccare, non la deve toccare. No, volevo, allora, prima cosa volevo sapere se Claudio è ancora lì. Claudio, ci sei? Sì, sì, sono in linea. Eh, voglio, cioè, perché magari se volevi te stocanavamo, però voglio, andiamo a... No, 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 sono i stessi, sono i stessi, caro Carlo e caro Claudio, sono i stessi che fanno, come ha detto prima Massimiliano, mi ci ha fatto arrivare a lui, cioè vogliono rimanere da trent'anni e oltre lì all'aeroporto, perché è un diritto acquisito, però fanno le denunce poi alla delibera comunale che prevede... Bravo, bravo, Franco, esatto, sono sempre lontano. No, 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 no. Però quando si vuole fare un accordo e si dice che lo si vuole fare con i noleggiatori, sono quelli i noleggiatori, ma con chi lo fai? Con chi si appella al TAR contro la delibera che regolamenta l'accesso in città? Ma con chi lo vuoi andare a fare? Beh, bene, allora... Una cosa sola e poi giudo. Una cosa sola e poi giudo. Perché abbiamo un'altra telefonata. Io credo che ci sia purtroppo, perché Silvano giustamente dice l'unità, è vero, se fossimo Stati Uniti, se fossimo Stati Uniti veramente, noi questa battaglia... A Carlos, se eravamo gli Stati Uniti d'America, se eravamo gli Stati Uniti d'America eravamo forti. No, ho detto un'altra cosa. No, ho capito, ho capito. Se fossimo Stati Uniti veramente uniti, l'avremmo già vinto, non abbiamo dato. E io credo che ci siano degli interessi diversi. Perché io campo del mio lavoro come voi e come i colleghi dell'associazione, come il direttivo dell'associazione e come tutti gli associati. Mentre c'è chi, invece, campa sul lavoro dei tassisti. E a quello probabilmente gli interessa più il canone che tu gli paghi, piuttosto che torni a casa con la giornata. Se la giornata la fai, tanto ti guadagnato. Se non la fai non è un problema suo. Va bene, Carlo. Ragazzi, vi ringrazio e vi saluto. Va bene, ciao Carlo, ciao.